A me i poderi di Fucecchio, a me quelli di Filippine, a me quelli di Prato, a noi, le terre deboli, a noi quelli di Fucecchio. Resterebbero ancora la mula, questa casa, e i mulini di segna sono le cose migliori. Ma capisco, capisco, perché sono il più vecchio e sono stato modesta, Fucecchio, volete dargli a me? Io vi ringrazio. No, 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 un momento, se tu sei peggio, o peggio per te, peggio per te, segnalo, 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 segnalo. Non neanche sistemini. Vieni, non neanche sei peggio per te, segnalo, 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 segnali, segnali. L'hanno saputo, l'hanno saputo che voce è fatto, tutto è crollato. Ancora si può sapere, ma c'è mio, non vuole più minuti da lei. Ora dagli da bere. E' preso un'accidente, allora è il piatto del signore capitale. Per la mula, la casa, i pulini, propongo di rimetterci alla giustizia. Coro le stati schicchi, rimettiamoci schicchi, come volete datemi i panni per vestirmi, presto, presto. Ecco la cappellina. Se mi lasci la mula a questa casa, i pulini di signa, ti non trovi a cappellina. Sta bene. Se lasciami la casa, la mula di pulini, ti non c'è nulla. Sta bene. Gianni, se mi lasci in questa casa, la mula di pulini di signa, ti non c'è di quadrini. Sta bene. E' preso un'accidente, la mula di pulini di signa, ti non c'è di quadrini. Stabili! Stabili! Sc纷 know! Corpi! 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 Ciascuno, Or twin! Corpi! Corpi! Per tua ragione, per poterci servip! Cambia vita, muso e naso, per poterci servire, cambia accento, islamico, per poterci servire. Mi serviremo a voler, e contente mi farò, proprio così, a grande età, il nostro salvatore. Ma vocale dice capo, oni che ti ancheone, sp смотрите, a God, mi serviremo, per poterci servire, cambia accento, islamico, per poterci servire. Alletto, alletto, alletto.